In mente, spazi e sovrumani silenzio. A certi orari qua, a certi orari si sente proprio il clamore del silenzio, il frastuono, il fracasso, come dire, del silenzio. Non si può descrivere la sensazione quando senti dire, tu hai una casa, anche se è una casa popolare, ma è una casa. Se non vorrei a blizzanzare, è un paese stupendo, che ci sono state larghe cose, solo che non lo saprò organizzare. Qua per fare il giro del paese sono quasi 6 km per fare il giro intorno al paese. C'è stato questo al corso attenuto e ascoltavo, mi sentivo dire, sta la baruta a Gibellina, a Montefazio, super, mi sentivo dire Gibellina, diciamo, mi sono messo un pochettino a guardare. Mi dice, tu mi vuoi, mio marito? Dice, se io te voglio, mi dice, mi dice un zizio. Venire in barracca, una mano con dente, perché sai, era bene la barracchetta, era tutta nera, sede, nera, sada, tutti i mobili, era tenne, mi piace. Sono cominciato a fare qua tutti questi monumenti, sculture per le strade, venivano artisti e lavoravano qua al museo, l'hanno fatto direttamente qua, alcune cose. E questa è stata proprio quella, dice, ma se te pupa, se te pupa. E questa è stata proprio la sua vita, dice, ma se te pupa. Grazie a tutti.